Il programma di informazione di Radio Eco News, interviste, approfondimenti e tutto ciò che riguarda il mondo universitario pisano Ma chi sei tu? Sono colui che è cara su nulla Che ti conosce? Io sono... Monella! Sì, una monella! Perché mentre il manganello può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere